Dopo sette mesi di stop a causa dell'emergenza pandemica, la musica torna finalmente protagonista dal vivo al Teatro San Carlo, che ha riaperto le porte a 500 spettatori, proponendo la traviata di Giuseppe Verdi in forma semiscenica. All'ingresso dei portici del lirico napoletano, il pubblico era stato accolto da un'atmosfera di festa grazie agli studenti del liceo musicale Margherita di Savoia, che hanno dato uno speciale benvenuto eseguendo musiche del capolavoro verdiano. L'emozione degli spettatori è altissima, in platea hanno trovato i divisori in plexiglass che consentono distanziamento in sicurezza. È una grande emozione, è una cosa che riscalda il cuore, stiamo uscendo da tanti mesi di gelo e un piccolo speraglio di speranza per il futuro. La riapertura vuole significare anche una speranza in più che Napoli possa risorgere. È un importante segno di speranza, di ripresa. Certo sappiamo che il percorso è lungo ma con comportamenti corretti e responsabili di tutti ce la faremo. È un segnale di ripresa importante, la cultura e la musica fa tanto. Questa non è una delle mie opere preferite ma pur di ricominciare sono venuta veramente con molto entusiasmo.